La scatola si aiuta a chiudere, a rifare l'altro rotto, quindi possiamo assicurare la clipa e il cavo. Quindi il cavo, 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 il cavo. Ok, il cavo di terra devi farlo, devi sganciare anche tutte le salte. E sganciare anche quelle rosse che sono da capace. No, non parte, è schifo. Ok, perfetto. Adesso, da qui. Adesso riguardi la, il gioco.